Davide Visinoni nel 22 maggio sarà il gran giorno? Eh sì, siamo quasi giunti e inizia a sentirsi anche un po' di emozione, un po' di, come dire, tremore ecco, in attesa dell'ordinazione e speriamo di arrivare non tanto pronti ma quanto veramente disponibili. Ma sono nato di fatto a Lecco, sempre vissuto qui a Rovetta, sono cresciuto un po' nell'oratorio, ho frequentato le scuole medie e elementari qui a Rovetta, le superiori invece a Lover, il liceo classico, poi 19 anni dopo la maturità, l'esame di Stato, sono entrato in seminario e da lì, prima nella scuola vocazioni giovanili e poi nei sei anni di teologia ho iniziato il cammino in preparazione a questo momento dell'ordinazione. Quali sono i suoi sogni? Ma i miei sogni sono quelli di poter vivere una vita contenta, contenta con il Signore e con gli altri e spesa nel servizio. Poi i sogni più prossimi sono di vivere da curato in un oratorio fondamentalmente. All'ordinazione sarete in 13? Sì esatto, siamo partiti in una quindicina e siamo arrivati in fondo al cammino in 13, con me sarà ordinato anche Don Giuliano Simoncelli che è originario di Val Bondione ma da ormai un anno e mezzo fa servizio qui a Rovetta ma anche nella realtà interparrocchiale di Fino del Monte, Onore, San Lorenzo e San Gavazzo e sono contento adesso di potergli passare il microfono e la parola per questa piccola presentazione. Don Giuliano Simoncelli, immagino che ci sia una grande emozione. Tanta davvero, la cosa più importante è che sono proprio contento e è un periodo adesso di preparazione, un periodo di grande movimento sia per me che per la mia famiglia, che per il mio paese, che per le parrocchie dove faccio servizio. Sto cercando di portare avanti quella davvero di essere contento di quello che sto facendo e lo sento proprio. La faccia è questa, ho 26 anni ormai fra pochi mesi e ho frequentato le scuole elementari medie al mio paese a Val Bondione poi lo scientifico qui a Clusone e il tutto è nato un po' dalla passione per l'oratorio dalla passione ai ragazzi, dalla passione agli adolescenti dalla passione anche dei miei amici e compagni del liceo che ricordo sempre e è così un po' iniziato il cammino dopo il liceo ho intrapreso la strada del seminario. Quali sono i suoi sogni? Di sogni ne ho tanti nel cassetto e quello che sento maggiormente in questo momento è quello di iniziare a darmi per gli altri in che modo, se in modi sono davvero tanti penso magari in un oratorio, in una parrocchia magari in un lavoro di collaborazione con altri sacerdoti vediamo, il sogno rimane un po' anche aperto ecco, io so che poi voi volete presentarmi anche un vostro collega sì, siamo riusciti a prenderlo appena in tempo adesso e si chiama Mattia Ranza e fra un anno toccherà proprio a lui grazie a tutti